Il trapper, Gionata Boschetti, in arte, sfera e basta, risulta indagato dalla procura di Pescara per istigazione all'uso di sostanze stupefacenti. Il fascicolo a suo carico è stato aperto a seguito dell'esposto presentato da due senatori di Forza Italia, Lucio Malane e Massimo Mallegni, che hanno individuato anche la procura di Pescara come destinatario in quanto il capologo adriatico è stato tappa del tour del cantante. A darne notizia è un articolo sull'edizione del Centro Quotidiano dell'Abruzzo. Nell'articolo viene ricordato che il nome dell'artista, che è anche tristemente legato alla tragedia della discoteca Lanterna Azzura di Corinaldo, dove la notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi persero la vita sei persone, cinque giovani tra i 14 e i 16 anni e una madre che accompagnava la figlia. Il 12 luglio scorso il cantante, si ricostruisce nell'articolo, ha tenuto un concerto a Pescara nell'ambito del Terrasound Festival, che secondo gli amministratori del comune che hanno voluto e invitato il giovane trapper hanno constatato che erano presenti un gremito gruppo di fan in delirio. E proprio per accertare queste circostanze la procura ha dato incarico di svolgere specifiche indagini alla polizia giudiziaria. I due senatori, riferisce ancora il centro, sostengono che i testi delle canzoni di Sfera si riferiscono pressoché tutti all'uso di droghe e spesso al loro spaccio, senza accennare alla negatività di tale pratiche, anzi prospettando questo tipo di stile di vita come simbolo di successo. Alla luce di quanto emerso e al termine della fase istruttoria che il procuratore Massimiliano Serpi ha voluto disporre, non si esclude che il magistrato che conduce l'inchiesta decide di ascoltare il trapper in questione.